No, no! Vai ora, vai! Vai ora, vai ora! Vai! NONNA! Arista i miei gambe, Arista i miei gambe, Arista i miei gambe! Io gli taglierei quelle gambe! Eh, lo f***! Solo fai gli oghi e bubù! E gli oghi! Ciao bubù! E' gestine, fate! Ma tu gestine hai rubato a Giardino! E io lo so! Basta, magari rubi! Basta! Sabato 25 dicembre 1998, siamo Friat Bartico, siamo io Ferruccio, Filippo, Serena, Davide, Marco, falco, Simone e Claudia, e c'è Filippo! Cosa da ragazzi, l'avvanda a bocchino! Già, Scirly, che sta sera? Scruti! Norcom, non lascia! L'intervista, Simone e Claudia... Simone è quella a destra, e Claudia, quella a destra... Sonia si nasconde, se ne va... Claudia, dice qualcosa per le da camere? Sigarette sconsetta per noi! Questa significa videofoni! Samanta vuol dire qualcosa? Samanta si nasconde! la mamma sarà tua sorella, con tutto il rispetto per tua sorella la mia sorella si chiama Emanuela quando mi chiamiamo il cesse la mamma se ne va, si lascora, presenti penali è diffidata signori, è diffidata attenzione, onoriamo il fustini il fusto onoriamo il fusto e la numero saluta ai miei amici fammi un video solo dopo no, non va bene Filippi, peggimo fei Gerrimo fei Gerrimo saluta a tutti gli ex colleghi di Velletri ciao amici il 98 è vero aperto alcatrazzi ma vai in televisione ma che hai l'auto canale 5 ZUVIDO è troppo è troppo, è troppo non è vera, non è un reale e cioè ma dai ragazzi i trans, i trans di notte ah ti ho visto cosa stiamo facendo stressare vai spegnete, spegnete, spegnete tre, due, uno, stop vai, fermi è andato, no devi spegnete rifarlo, rifarlo no Ferro devi tagliare un po' di sceme tre, due, uno bellissimo grazie grazie grazie